De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Consigliere Festa stamane a Bellizzi, sono cominciati i lavori di rifacimento del manto stradale di questa importante arteria provinciale. Assolutamente sì, abbiamo raccolto le segnalazioni da parte dei cittadini di Bellizzi in particolar modo e come provincia abbiamo voluto investire grazie all'apporto del Presidente dell'intero Consiglio una somma superiore a 100.000 euro per intervenire con prontezza. Questo conferma anche dell'importante ruolo che svolge l'organo provinciale e che rivolge sempre grande attenzione alle difficoltà che il territorio ci rappresenta. Cerchiamo sempre di dare risposte immediate così come è accaduto tra l'altro anche ieri per ciò che concerne l'eceo scientifico Mancini. Ecco, in cosa consisterà l'intervento? Stiamo provvedendo a rimuovere il vecchio asfalto che era in pessime condizioni e nei prossimi due giorni invece completeremo l'opera di riasfalto dell'intera arteria che è molto utilizzata sia in uscita che in entrata rispetto ad Avellino e in questo modo daremo anche finalmente e nuovamente dignità a questa contrada storica a cui davvero siamo molto legati come avellinesi ma anche come consigli provinciali.